Andrea Ansevini e Dragonfly Edizioni presentano Morte nell'acciaieria Oh mio Dio, fate presto, venite a vedere Tutto era iniziato dal ritrovamento di quella maledetta mano Subito si diffuse il panico Ma che è successo? Oddio, e chi serve da quella mano? Finimo tutti sotto interrogatorio Salve a tutti, sono il tenente Delbert Sono il signor Albert Newton E' stata lei a uccidere il signor Springsteen? Tenete, io non so niente, mi dispiace Fu così che venne licenziato Signor Wright, ci dica, cosa è successo all'interno dell'acciaieria? Se siete curiosi, non perdetevi Morte nell'acciaieria Un libro di Andrea Ansevini Dragonfly Edizioni Mario Edizioni